ciao a tutti ragazzi allora so che state entrando so che ci mette un pochino zoom quindi vi daremo un po' di tempo per entrare vedo che ho già tante persone con me ragazzi buongiorno buonasera a tutti scusate io sono rimasto a oggi allora vi invito a tutti se volete di accendere la webcam cosa che potete fare anzi ci fa solo che è piacere così non sembra che siamo solamente io e Floridiana qui a parlare ecco già vedo che vi state connettendo ragazzi buonasera a tutti sono davvero contentissimo di essere qui non so quanti di voi stavano al webinar precedente non so a che punto sta se sta finendo o no so che più tardi ci riusciranno anche tanti altri ragazzi mi presento io sono Nicolo Abardi sono uno dei fondatori di Tutored e sono davvero contentissimo di essere qui a questo secondo appuntamento prima di iniziare di lasciare la parola floridiana per il tema di oggi io vi rubo davvero qualche minuto so che ieri Giuseppe vi ha fatto un bel diciamo una bella panoramica su un po' tutto quello che stiamo facendo su questo progetto io ci tengo giusto a raccontarvi un paio di cosette quindi non vi ruberò assolutamente troppo tempo come sapete questo progetto destinazione di cd nasce dal fatto che su Tutored a partire da qualche giorno è possibile candidarsi con il proprio cv questo è stato per noi un cambio davvero grosso da oggi infatti diamo molta più lasciando più creatività al candidato così non deve più semplicemente compilare un form ma può candidarsi con il proprio cv da qui nasce un po' questo viaggio l'abbiamo chiamato così destinazione cd proprio è un viaggio che è partito ieri con Fabiana oggi alle 5 abbiamo parlo di cv per studiare all'estero parleremo oggi di Canva che probabilmente è uno dei tool più utilizzati ad oggi per creare il cv domani abbiamo tre appuntamenti uno sul tema dell'economia quindi dove parleremo del cv per lavorare in economia da marketing finance audit consulenza sempre domani invece chi ha lavorato chi è uno studente STEM quindi ha studiato più per esempio ingegneria scienze matematica ha un appuntamento dedicato e un appuntamento più generico e meglio sul personal branding che penso che sia una delle cose più importanti più sottovalutate in questo momento quindi invito ovviamente a dargli un'occhiata il giovedì abbiamo un cv check quindi dove analizzeremo proprio in diretta i cv e l'ultimo appuntamento chiuderemo un po' la settimana con il colloquio è vero non parla più di cv però il colloquio comunque è sicuramente uno stato molto importante io per chi non lo sapesse abbiamo inaugurato un canale Telegram proprio per darvi tutte queste informazioni vi metteremo anche il link successivamente oggi di cosa parliamo poi parlerò lascerò la parola fluidiana ma parliamo di Canva che penso che sia il tool abbiamo fatto un sondaggio qualche mese fa e abbiamo scoperto che il 70% della nostra community aveva un cv su Canva quindi parliamo comunque di un tool che è già molto molto conosciuto abbiamo come vi ho raccontato ieri Giuseppe perché c'era lanciata una challenge l'idea qual è? ogni webinar che stiamo facendo lanciamo una piccola challenge alla nostra community con la possibilità di accedere a delle consulenze delle consulenze specifiche con i professionisti che abbiamo convolto abbiamo pensato tanto a quale challenge potevamo fare sicuramente la challenge migliore per questa qual era? era lasciamo che sono gli stessi partecipanti di oggi a creare un cv su Canva quindi qual è la challenge di oggi? ovvero dopo aver ascoltato tutti i consigli di floridiana creare un proprio cv su Canva ed esportarlo in pdf caricarlo su un link che a breve vi metterò qui in chat ma poi ve lo rinvierò che succederà? gli autori dei cv in questo caso parliamo di grafica quindi non parliamo di contenuto sono quelli i migliori potranno accedere a una consulenza avete tempo ovviamente e non avete tempo solo fino a oggi ma fino a giovedì per creare questo cv sono sicuro che questo cv potrà essere molto utile sia su Tutored ma non solo vedo un messaggio di chat avrei una domanda subito scusate Alessandro ti rispondo dopo pensavo fosse qualche problema l'ultima cosa diciamo Tutored cos'è Tutored? Tutored nasce qualche anno fa Giuseppe ieri già vi ha raccontato cosa abbiamo fatto ci tenevo solo a dirvi che Tutored nasce qualche anno fa con un unico obiettivo quello di aiutare studenti, università, regioni, laureati ad entrare nel mondo del lavoro organizziamo numerose attività di orientamento al lavoro come questi webinar come delle challenge allo stesso tempo su Tutored ci sono presenti annunci di stagione di lavoro al quale candidarsi quindi l'obiettivo nostro è quello di aiutare e agevolare il più possibile la nostra community ad accedere al mondo del lavoro allo stesso tempo la community è composta da oltre 250 aziende sulla nostra piattaforma che pubblicano annunci di lavoro proprio per ingaggiare la nostra community io colgo l'occasione per scusate qui faccio esco così per spiegarvi questo qui è dove dovrete caricare il CV questo è Tutored ok questo è il link che io a breve vi rimanderò per caricare il CV per partecipare alla challenge basta cliccare su Candidati accedere col vostro col vostro account ora io accederò con uno dei miei tanti account una volta fatto questo qui vi chiederà manualmente di caricare il vostro PDF ok quindi caricate il vostro PDF e potete continuare a potete ovviamente partecipare alla challenge ne approfitto ieri Giuseppe vi ha fatto vedere qualcosina scusatemi scusatemi abbiamo Slack questo è Tutored su Tutored potete trovare tutta la parte di opportunità di carriera che vi raccontavo prima quindi divisa in base al vostro percorso di studi tutti i webinar come potete vedere questo è un progetto un po' particolare con una serie di webinar per tutta la settimana ma avremo poi appuntamenti in ambito software developer di match analyst con AXA parliamo di machine learning come potete vedere a partire della settimana prossima troverete davvero tantissimi tantissimi appuntamenti e oltre 250 aziende che su Tutored stanno assumendo in questo momento io ovviamente invito a utilizzare la ricerca e scrivere un pochino quello che volete per trovare tutte le opportunità che sono più in linea con le vostre con le vostre esigenze io vi ho rubato 5 minuti quindi Floridiana torniamo torniamo qui torniamo qui da da voi mi dicono Nicolò scusami sì infatti forse l'hai visto pure tu il messaggio in chat di ragazzi segnalo che si blocca il video audio fatemi sapere Federica fammi fammi sapere però io vedevo bene e sentivo anche bene a me tutto vabbè a me tutto ovviamente dipende un po' dalla connessione di ognuno Floridiana innanzitutto io ti ringrazio per essere qui sono davvero contentissimo sono sicuro che faremo un super appuntamento io lascio direttamente la parola a te io tanto sono qui ragazzi tutta la parte di Q&A ovviamente la faremo verso la fine oggi Floridiana farò vedere un sacco di cose ovviamente restate qui restate connessi che dopo risponderemo anche a tutte le varie domande Floridiana a te il palco grazie Niccolò grazie a tutti quanti per essere qui pian piano sto vedendo che siamo sempre di più e io ringrazio ancora una volta il team fantastico di Tutored perché ha messo su davvero un evento pazzesco quindi sono strafelice di far parte di questo super progetto vorrei partire subito condividendo con voi il materiale che vi ho preparato e arriviamo a quello che è il motivo per il quale siete qui ossia il curriculum su Canva Niccolò prima vi ha fatto questa premessa su Canva che è appunto la verità cioè ad oggi è uno dei tool più utilizzati in assoluto quindi oggi approfondiremo assolutamente il tema del curriculum su Canva e avremo una prima parte ma molto breve teorica e poi con il team di Tutored abbiamo deciso di fare una simulata quindi vedremo proprio da zero un curriculum prima però di entrare nel vivo di questo argomento voglio darvi proprio qualche informazione su di me io appunto mi chiamo Floridiana sono una digital job coach aiuto ragazzi come voi a entrare nel mondo del lavoro attraverso consulenze personalizzate e con un occhio sempre vigile a quello che anche Niccolò ha in realtà citato prima il personal branding del candidato tanto online quanto offline sono anche docente in corsi di chart management e svolgo in libera professione anche l'attività di ricerca e selezione del personale in passato ho lavorato in agenzia come reclutatrice da ormai un anno e mezzo ho un profilo instagram dedicato appunto al mondo del lavoro dedicato a voi che volete appunto muovere i primi passi nella giungla del mondo del lavoro e da ormai qualche mese ho lanciato anche la rubrica e ci risponde dedicata appunto a chi cerca lavoro dove c'è la possibilità di parlare con i chart professionisti dunque entriamo però nel vivo di tutto di che cosa parleremo oggi parleremo che cos'è Canva ma soprattutto come Canva può aiutare tutti voi a cercare lavoro andando a ottimizzare gli strumenti di ricerca attiva del lavoro tra cui appunto il curriculum ma approfondiremo un aspetto di cui non tutti parlano perché dovete sapere che non tutti i modelli di curriculum sono ottimizzati per i software di lettura ottica che li vedremo a breve utilizzati dalla maggior parte dell'azienda quindi dobbiamo porre la giusta attenzione anche a questo a capire quale curriculum ci conviene quale modello di curriculum ci conviene utilizzare quale no alla fine io vi presenterò diciamo un profilo inventato chiaramente profilo di una ragazza che come voi molto giovane neolaureata e alla ricerca della prima occupazione e vedremo come potrà costruire questa ragazza il suo profilo ma iniziamo subito nel vivo dell'argomento dunque in primis dobbiamo capire che cos'è questo programma tanto utilizzato e come vi dicevo prima come possiamo utilizzarlo a nostro vantaggio per cercare lavoro sicuramente se avrete già ecco utilizzato per qualsiasi motivo Canva avrete notato che è possibile lo vedremo poi insieme nella simulata del curriculum scrivere la parola curriculum vitae o cercare direttamente nella voce modelli curriculum e vedrete un sacco un sacco di modelli modelli di qualsiasi tipo colorati non colorati standardizzati più creativi questo programma Canva è un programma davvero molto facile tanto che è così utilizzato da tutti noi perché nessuno di noi è un grafico professionista nonostante questo la facilità d'uso di questo programma è stata appunto anche il motivo del suo grande successo e consente di creare questi format che vedete anche sulla destra eh molto molto ehm diciamo graficamente accattivanti ma come ci può essere utile oggi chiaramente il nostro focus come vi ha detto anche Niccolò sarà assolutamente sul curriculum ma se voi girate un po' nei meandri di Canva perché sono davvero tantissime le sue funzionalità è possibile realizzare davvero un sacco di strumenti per la ricerca attiva del lavoro oltre a curriculum vite penso al portfoglio per aspiranti social media manager a cover letter quindi lettere di presentazione no? quando vogliamo allegare un documento aggiuntivo al curriculum ma anche video presentazioni insomma il programma è davvero super ricco e vi può aiutare a raggiungere questo obiettivo quindi migliorare i vostri strumenti di ricerca attiva del lavoro cosa succede però? Quello che vi accennavo prima che in realtà non tutti i modelli che troviamo su Canva e capiremo a breve anche perché ve li consiglierei perché? perché dovete sapere che ad oggi ma in realtà già da qualche anno la maggior parte delle aziende e parliamo vi faccio anche questa specifica importante parliamo di aziende dal mediamente strutturato in su e tutte le agenzie per il lavoro quindi se voi siete interessati a fare esperienza in aziende di medie e grandi dimensioni multinazionali agenzie per il lavoro e in parte anche società di selezione dovete sapere che queste aziende utilizzano questi software di lettura ottica cosa sono? che vuol dire ATS? i software di lettura ottica sono dei software di intelligenza artificiale e voi potreste pensare vabbè ma a me che mi interessa di tutto questo vi deve interessare in quanto questi software sono stati pensati a supporto della figura del reclutatore dell'e-char e hanno proprio l'obiettivo di facilitare il suo lavoro quindi in alcuni casi fare lo screening automatico del curriculum oppure catalogare candidature e catalogare anche i profili di candidati che vengono accorpati o vengono filtrati sulla base di standard decisi chiaramente di volta in volta dall'azienda oppure riuscire a leggere ad esempio elementi non visibili a occhio umano durante una vostra video intervista quindi per questa e per tantissime altre ragioni è necessario sapere che ad oggi dobbiamo creare un curriculum che riesca a passare letteralmente i software di lettura ottica e dunque la lettura artificiale da parte di questi tool ok o adesso vi faccio una domanda e vorrei che partecipaste ma insomma molto sinteticamente riportando uno dei tre numeri quindi uno due tre quale secondo voi tra questi è un modello di Canva sono tutti e tre modelli di Canva e che potrebbe secondo voi superare quella famosa lettura ottica da parte di software ATS tu puoi vedere la chat sì 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 assolutamente diciamo che ci sta mi sembra che tutti dicono tre infatti benissimo stop ho capito che la pancia di parte di voi è già sul pezzo su questo e di questo chiaramente mi fa super piacere perché vuol dire che siamo già avanti sul capire quale di questi modelli può essere ottimizzato può essere considerato un modello ottimizzato e quale invece no quando andremo a creare da zero il curriculum poi vi darò chiaramente delle indicazioni molto molto operative ok adesso vi dirò però quello che vale per tutti i modelli per tutti i tipi di curriculum che vuol dire vuol dire che il profilo il modello di prima il modello di curriculum di prima è ottimizzato per queste ragioni che vedete qui e per molte altre anzitutto l'uso di keywords appropriate ecco questo attiene soprattutto al contenuto che voi inserirete all'interno del curriculum cosa vuol dire parole chiave no? vuol dire appunto parola chiave vuol dire quelle parole chiave che rispecchiano il settore professionale in cui volete lavorare il job title quindi la posizione che volete ricoprire le competenze tecniche che avete sviluppato in questo momento i programmi informatici che conoscete insomma le parole chiave sono considerate appunto chiave di volta in volta sulla base del profilo e della candidatura che andate a fare secondo aspetto nomenclatura nomenclatura standard a volte mi capita di leggere ad esempio curriculum che contengono dei titoli di sezioni molto molto creative penso la mia citazione preferita ecco quella non è una nomenclatura standard che riguarda le varie sezioni del curriculum e che i software di lettura ottica potrebbero non leggere quali sono invece i nomi standard non la nomenclatura standard profilo professionale profilo personale istruzione e formazione competenze tecniche competenze trasversali competenze IT esperienze lavorative esperienze professionali quindi ciò che la macchina è abituata a leggere chiaro quindi questo è un aspetto molto molto importante vedremo anche il discorso tra pochissimo sui font io vi consiglio a priori di non utilizzare dei font troppo troppo creativi ad esempio che simulano per dire la scrittura a mano libera oppure che non siano magari font che appartengono alla famiglia sans serif ecco eviterei questi qui se sono font standard meglio anche perché vedremo a brevissimo che non serve il font o il layout super creativo per personalizzare il curriculum e attirare l'attenzione del reclutatore perché ricordiamoci che ciò che attira l'attenzione del reclutatore non è solo il colore non è solo il layout figo ma è anche soprattutto quello che ci scrivete quindi voi su quello dovete puntare e ancora altro elemento che ci fa capire se il curriculum è un curriculum ottimizzato per i software di lettura ottica è anche l'assenza di immagini grafici stelline quindi tutto quello che non è estremamente necessario immagini chiaramente intendo immagini oltre la fotoprofilo quindi immagini aggiuntive ad esempio mi è capitato di vedere curriculum che riportavano i loghi delle aziende in cui aveva lavorato il professionista ecco questa è una cosa che si può evitare non ce n'è bisogno non è un'informazione rilevante basta scrivere il nome ok o ma arriviamo al punto più importante ossia ci tenevo tantissimo a condividere con voi quello che sicuramente avrete già ascoltato in webinar di Tutored in internet sui blog sui social media su quelli che sono tutti i consigli su come creare un curriculum ma oggi ho deciso di mettere tra virgolette in pratica tutto quello che io vi consiglierei e per questa ragione vi presento Alice perché vedete la foto perché la foto è una foto di default di Canva ok non è una foto di una persona ecco di una insomma di una candidata e ti presento Alice 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 chi è? Alice è la protagonista del curriculum che faremo insieme è una laureata con il massimo dei voti presso un'università X ha svolto la tesi di laurea in marketing un corso online in digital marketing classico stage da quattro mesi curriculare in area comunicazione e sogna di lavorare nel digital marketing se ci fate caso non ha nulla di particolare dieci esperienze internazionali quattro titoli di laurea quindi è davvero un profilo suppongo molto simile a quello che potrebbe essere anche il vostro caso ok e allora andiamo a vedere cosa succede se Alice oggi vuole creare per la prima volta il suo primo curriculum su Canva dunque vediamo un po' ok siamo su Canva la prima cosa che facciamo è andare in modelli curriculum e si aprirà chiaramente finestra infinita con un sacco di modelli eccetera diamo per buono che vogliamo utilizzare questo curriculum che non casualmente è appunto Alice allora come vedete la scelta di questo curriculum è stata assolutamente voluta nel senso che come potete notare questo curriculum non ha assolutamente nulla di che quindi non è estremamente creativo non ha insomma troppi colori troppi grafici io vi assicuro che alla fine di come avremmo pensato di scrivere le varie sezioni e di anche presentarlo graficamente sarà molto molto più accattivante allora iniziamo dal principio ecco Alice io sono Alice e sogno di lavorare nel digital marketing quello che mi piacerebbe è trasmettere anche con i miei colori la mia passione per questo settore sono una persona molto creativa ma sono una persona che sostanzialmente non ha ancora messo in atto comunque sì tramite uno stagio curriculare ma davvero molto molto poco una combinazione di colori che io vi consiglio se chiaramente vi piace è ad esempio questa una combinazione che io vedo davvero pochissimo ma che mi piacerebbe molto vedere allora prendiamo come font open sense quindi proprio ok e iniziamo così ho deciso che la mia palette di colori per questo curriculum sarà giallo con uno sfondo magari lo facciamo un pochino più scuro con uno sfondo grigio scuro perché voglio mettere in risalto sì la mia creatività ma darmi anche un tono ok così mi piace di più bene iniziamo allora sostituiamo qui lasciamo il nome di Alice che ripeto è un nome di fantasia che mi dà direttamente di default Canva e iniziamo subito con il primo passaggio questo qui che vedete qui si chiama job title ok cosa dobbiamo inserire qui normalmente si inserisce o la posizione che si vuole ricoprire oppure la posizione che si ricopre chiaramente nel caso di Alice Alice è una neolaureata o come abbiamo detto alle spalle ha semplicemente uno un tirocinio curriculare quindi cosa inseriremo saggista area marketing come sarà capitato anche a voi o magari è appunto la situazione che state attraversando in questo momento nella maggior parte dei casi quando si è un neolaureato non si ha ancora le idee chiare chiare quindi magari Alice che proviene da studi di marketing e comunicazione ok sogna di lavorare nel digital marketing ma non ha fatto granché quindi non ha ancora maturato una esperienza una consapevolezza professionale per cui in questo caso scrivere stagista area marketing soprattutto se Alice decide di candidarsi spontaneamente è la scelta probabilmente strategicamente migliore se ovviamente Alice anziché fare una candidatura spontanea come ad esempio in questo caso decidesse di candidarsi per una posizione di junior digital marketing assistant allora lì scriverà quella dicitura qui ok iniziamo subito con la prima sezione ecco quasi sempre la prima sezione più importante è quella in cui Alice deve presentarsi giusto deve presentarsi a chi sta leggendo andiamo a vedere andiamo di farlo un pochino più grande ok cosa potrebbe scrivere abbiamo detto che Alice è una neolaureata si è laureata appunto in marketing con il massimo dei voti e sappiamo che Alice sogna in qualche modo di lavorare nel digital marketing ma comunque ha solo l'esperienza di un ostaggio curriculare alle spalle allora com'è possibile iniziare soprattutto quando siamo neolaureati o siamo comunque profili molto molto junior che quindi hanno anche difficoltà a maturare una qualche forma di consapevolezza su quelle che sono le proprie competenze trasversali le proprie capacità le proprie caratteristiche è davvero poco poco realistico pensare che Alice ad oggi possa definirsi facendo la classica o lista della spesa nell'ambito delle soft skill oppure attribuirsi troppi aggettivi perché Alice ha avuto poca possibilità di mettere a frutto effettivamente le conoscenze le competenze che ha maturato ok quindi cosa farei se fossi Alice mi presenterei così ne ho laureata in marketing con centodieci e loda mi ritengo una persona motivata sicuramente determinata questa è una consapevolezza che anche se junior voi potete assolutamente avere è spinta da una forte passione per il settore marketing no? qui parte la prima caratteristica di Alice sono determinata sono motivata ho passione per il settore ma devo testimoniare in qualche modo questa passione e quindi cosa potrei dire potrei dire che questa passione per il marketing che chiaramente mi porto dietro anche grazie ai miei studi l'alimento come fa Alice ad alimentarla l'alimento tramite corsi tramite corsi e libri sull'argomento ok a questo punto però se io sono Alice ci sarebbe da chiedere adesso adesso la tentazione è quella di scrivere che io ho ottime capacità di problem solving ho doti di leadership so lavorare in team e a quel punto già vi anticipo che se il reclutatore leggesse tutto questo si chiederebbe ma come ha fatto a maturare tutta questa consapevolezza e dunque se Alice come sicuramente vi sarà capitato anche lei avrà fatto lavori di gruppo progetti universitari durante il corso di studi sarà più facile per Alice testimoniare questa sua predisposizione che lei stessa ha notato durante i progetti universitari quindi cosa potrei scrivere io Alice grazie a 4 5 progetto work svolti durante gli studi universitari universitari ho che cosa ho imparato anche qui attenzione all'uso delle parole già dire maturare dall'idea di qualcosa di più duratura nel corso del tempo e allora pensiamo invece a quello che effettivamente voi state imparando strada facendo siete all'inizio quindi meglio utilizzare ho imparato ho imparato a fare che? a lavorare in team giusto? perché durante i progetti universitari cosa si fa? si lavora in team ognuno ha la propria ognuno ha la propria attività ognuno ha la propria funzione e ci si riunisce ci si confronta per portare poi al professore il progetto finale o la presentazione del lavoro ok? quindi ho imparato a lavorare in team a rispettare le scadenze perché se avete fatto dei lavori di gruppo dei progetti universitari all'università sicuramente sia che siano stati singoli sia in gruppo avevate delle scadenze da rispettare ok? quindi a maggior ragione se Alice durante il suo percorso universitario e adesso rispetto già a cinque anni fa è molto più utilizzato all'interno delle università i progetti work no? i progetti in gruppo progetti universitari e cosa? organizzare probabilmente le attività da svolgere perché magari Alice era quella persona che quando si iniziavano i progetti universitari prendeva la parola e diceva ragazzi allora organizziamoci in questo modo Marco si occupa di questo io mi occupo di questo e Valentina si occupa di quest'altro ok? e dobbiamo metterlo in luce a questo punto arriva la conclusione ma io che sono Alice cosa sto cercando e allora se Alice sogna anche se non ha ancora le idee chiare però le piacerebbe fare ad esempio esperienza in una realtà più grande in una realtà multinazionale perché non dirlo ad oggi ricerco una realtà internazionale in cui mettere a frutto possiamo ipotizzare ad esempio mi sta venendo in mente Alice potrebbe aver sviluppato anche delle competenze linguistiche importanti queste competenze linguistiche ragazzi anche qui usciamo fuori dalla logica classica perché può essere che le ha maturate ad esempio non per forza perché ha conseguito una certificazione ok? professionale su questo ma magari perché la mamma è madrelingua straniera e allora ad oggi ti cerco una realtà internazionale in cui a mettere a frutto le conoscenze linguistiche maturate ipotizziamo lingua inglese e e gli studi di marketing per specializzarmi in ambito digital cosa andremo a fare sicuramente avrete letto anche online o se non l'avete letto ve lo dico io può essere molto utile per facilitare la lettura che cosa andare a sottolineare delle parole in grassetto anche qui però attenzione mi è capitato di vedere curriculum in cui davvero erano troppe parole in grassetto allora qui cosa evidenzieremo sicuramente marketing sicuramente centodieci lode lingua inglese ok perché potrebbe essere davvero molto rilevante a maggior ragione se voglio eh lavorare in un ambiente eh internazionale e poi che cosa cinque project work perché potrebbe essere molto rilevante da poi approfondire no al colloquio e basta andiamo però a cambiare font inseriamo nove ottimo e abbiamo fatto giustifichiamo abbiamo fatto questa prima sezione ok andiamo avanti allora cosa potrebbe avere Alice di ehm ecco interessante potrebbe avere di interessante proprio questi project work e allora quale sezione potremmo mettere in luce soprattutto se sono coerenti con quello che Alice vorrebbe fare i progetti universitari cosa andremo a fare andremo a riportare non tutti i progetti universitari dal lice ma sicuramente quelli più significativi ipotizziamo abbia fatto visto che è una laureata in marketing un progetto che riguarda questa materia marketing management e che ha trattato l'attuazione di un piano di marketing che soprattutto in progetti universitari in project work strutturati c'è proprio la simulazione di un caso concreto quindi mi immagino che se Alice ha partecipato a questo tipo di progetto universitario si ritrova anche cioè si è ritrovata assieme ai suoi ex colleghi universitari anche un budget da gestire quindi potremmo ipotizzare attuazione di un piano di marketing con budget di mille euro euro e con apertura simulata di un'attività un'attività commerciale ok quindi cosa abbiamo fatto abbiamo detto in due righe senza perderci con troppi formalismi troppe chiacchiere quello che Alice ha fatto come vedete è possibile scriverlo davvero in pochissime righe e dire tutto Alice ha detto la materia in cui ha fatto il progetto di che cosa si è occupata quindi dell'attuazione di un piano di marketing che ha gestito assieme ai suoi colleghi un budget e che tutto questo serviva per simulare un'attività commerciale ipotizziamo poi Alice abbia fatto anche un secondo project work molto significativo su social media management che ha studiato come materia scelta dunque è chiaro che in questo caso noi metteremo in luce proprio questa tematica del project work visto che lei vuole lavorare nel settore digital e dunque di che cosa si è occupato questo progetto ad esempio della creazione di pagine social ipotizziamo Instagram e Facebook per lanciare un nuovo brand fashion e luxury anche qui che abbiamo fatto abbiamo detto in quattro righe le cose più importanti le cose più significative come vedete io sto utilizzando i punti ad elenco in questo caso sono un paio che facilitano molto la lettura la ottimizzano parecchio e la mettono in rilievo in questo caso anziché utilizzare il grassetto ho utilizzato il corsivo visto che le parole si ripetono ma come vedete in corsivo vengono comunque messe in evidenza ok passiamo adesso ad un'altra sezione istruzione e formazione no anche qui facciamo lo stesso lavoretto andiamo a inserire open sense a mettere lo stesso colore a scusate a aggiustare qui poi insomma non so se è lo stesso però lo diamo per buono magari e undici e a questo punto iniziamo i titoli abbiamo detto che Alice ha frequentato un corso online di digital marketing qui chiaramente in questa fase non ci interessa il nome mettiamo formazione da detali e qui il periodo dunque mettiamo 2021 2021 ok anche questo lo facciamo dello stesso colore il mouse mi accompagna ecco qui ok open sense qui lo mettiamo un po' più piccolo anche attenzione a queste accortezze la riga di sotto rispetto a come dire rispetto al titolo formativo mettiamolo assolutamente in evidenza ok e facciamolo di un di una dimensione minore rispetto al titolo formativo qui cosa metteremo è inutile scrivere cose che non ci interessano cosa potrebbe interessare al reclutatore perché questo curriculum non è fatto per voi ma per chi legge quali sono gli argomenti ad esempio in questo corso quali potrebbero essere gli argomenti specifici se o sem e copywriting se Alice sogna di lavorare appunto in questo settore potrebbe essere anzi sono molto utili avere almeno le conoscenze teoriche su questo anche qui lo facciamo un pochino più piccolo ottimo andiamo a modificare sappiamo che Alice ha una laurea triennale in marketing abbiamo detto e comunicazione bene qui scriveremo sempre la stessa cosa ossia università bla bla e il periodo 19 ad esempio 2022 cambiamo anche qui il font lo aggiustiamo ok e inseriamo qui che cosa cosa potrebbe essere rilevante la votazione 110 e la tesi di laurea tesi di laurea soprattutto se Alice la svolta con su un argomento che richiama direttamente o indirettamente ciò che lei vorrebbe fare o il settore professionale in cui lei stessa vorrebbe lavorare ad esempio tesi di laurea in marketing distributivo la materia dal titolo il 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 neuromarketing per i social media ok bene votazione anche qui lo mettiamo in corsivo riduciamo mettiamolo in corsivo così si mette comunque in evidenza senza stancare troppo la vista e andiamo avanti esperienze lavorative anche qui facciamo la stessa cosa andiamo a ridurre lo spazio perché è bruttino esteticamente vedere troppo spazio e inseriamo lo stage che ha fatto Alicia lo stage area comunicazione ok qui scriviamo sempre agenzia tal dei tali e qui scriviamo il periodo ad esempio 01 2020 e qui inseriamo le attività principali ovviamente ragazzi mi capita anche di leggere spesso stage di pochi mesi con un sacco di attività scritte allora riduciamole a maggior ragione se siamo stati pochi mesi è impossibile che voi abbiate fatto tantissimo oppure se avete svolto attività molto diverse tra loro mettete in risalto quelle che sono più funzionali alla posizione che state ricercando o per la quale vi volete candidare in questo caso cosa potrà essere rilevante diciamo nel caso di Alice la creazione di contenuti creazione di contenuti sul sito aziendale cioè dell'agenzia e sui social media ad esempio inserite inserite con precisione il tutto oppure blog posting che vuol dire blog posting andate a precisare anche quello che avete fatto ad esempio stesura di dieci articoli in chiave SEO ok e ad esempio ideazione e gestione di concorsi a premio sui social oppure su Instagram ecco siamo i più precisi possibili ok qui forse dovrei farlo di un carattere più grande e abbiamo fatto questo qui lo mettiamo open sans lo riduciamo ok forse troppo e questa parte legata quindi al testo poi chiaramente lo lo aggiustiamo l'abbiamo fatta andiamo da questa parte ok iniziamo bene prima cosa importante data di nascita ok questo è il primo dato rilevante diciamo che è del 98 quindi questo qui che invece identifica la località lo scendiamo facciamo scendere giù ok qui inseriamo la città inutile inserire ad oggi troppe informazioni tipo numero civico eccetera eccetera inseriamo la provincia c'è la città la provincia e basta numero di telefono bla bla la mail e infine il link di linkedin del profilo linkedin andiamo a trovare un una cosa carina per questa parte qui quale possiamo inserire inseriamo questo lo riduciamo lo riduciamo piccolo quanto il resto e inseriamo qui un'altra un'altra iconcina carina ok piccola postilla magari questo li avviciniamo per quanto riguarda il link soprattutto dal punto di vista grafico sarebbe molto carino inserire anche un link che non è troppo lungo quindi cosa possiamo fare possiamo se ci riesco possiamo andare sul nostro profilo linkedin prendere il link del nostro profilo cercare su internet bit.ly e accorciare l'url ok inserendolo qui anziché inserire tutto l'url di linkedin molto molto lungo ok adesso cosa facciamo per non sballare tutto io vi consiglio sempre di utilizzare il lucchetto bloccate una sezione e poi muovete tutto il resto togliamo tutto qui e inseriamo le ultime sezioni quali possono essere le ultime sezioni ecco competenze tecniche oppure se vogliamo fare un pochino di più i fighi possiamo anche scrivere hard skill ok e vediamo come sta meglio come grandezza vediamo il testo ok inseriamo qui e inseriamo che cosa tutto quello che può essere rilevante ancora una volta non per noi ma per chi legge cosa può essere rilevante ad esempio se durante l'università Alice ha utilizzato ok ha utilizzato Excel grazie ai project work grazie a corsi interni con l'università e a questo punto sarebbe interessante per evitare che il reclutatore come dire pensi che sono solo frottole oppure bugie bianche scrivere magari cosa conosce di Excel tabelle pivò oppure formule matematiche eccetera ok che cos'altro ha studiato Alice che può essere assolutamente rilevante abbiamo detto che ha studiato SEO SM e l'ha anche messo in pratica quindi ottimo sa usare Canva perché in questo caso potrebbe essere utile inserirlo perché chiaramente se le dovrà gestire lavorare e lavorare con social media potrà essere molto utile per l'azienda sapere che sa utilizzare appieno questo tool e ne ha dimestichezza pacchetto office in generale e cos'altro magari sa utilizzare anche Photoshop oppure se non lo sa fare insomma non cambia niente ha già delle prime competenze maturate cosa manca a questo punto manca hobby e interesse quindi qui inseriamo un'ultima sezione che può dare elementi in più al reclutatore ad esempio cosa potrebbe essere importante io vi consiglio sempre di partire da una parola chiave ad esempio volontariato ipotizziamo che Alice le piaccia le piaccia trascorrere nel weekend alcune ore da dedicare al canile della sua città come lo scriveremo nel weekend mi piace aiutare il canile della mia città supportando il team nella cura dei cani e cos'altro abbiamo detto all'inizio mi era venuto proprio così che Alice ha questa passione per le lingue straniere che in realtà non ha cottivato con certificazioni in merito ma grazie magari alla mamma che è straniera e allora perché non dirlo no? e viaggi e viaggi all'estero ok oppure letture oppure film eccetera eccetera abbiamo già reso il curriculum di Alice molto molto più appetibile ma voglio concludere inserendo anche qualche elemento grafico aggiuntivo ecco cosa potrebbe indietro inseriamo una bella un bel cerchio dietro ok no facciamolo più ok guardate che carino ok bene qui abbiamo magari così qui aumentiamo a 10 10 qui la allineiamo al resto inseriamo così postiamo qui sotto vediamo ok abbiamo creato un curriculum semplice lineare ragazzi quindi non abbiamo strafatto sul discorso del design troppo e abbiamo assolutamente reso comunque d'impatto e accattivante il nostro curriculum ovviamente qui c'è anche da ok intanto super diciamo super sono andate un sacco di domande io sto cercando adesso quindi ne ho già selezionata qualcuna la prima cosa che tutti mi chiedono e io non penso ci sia un problema se poi possiamo se ci puoi inviare questo cv che io lo inviamo a tutti così che tutti hanno comunque sì 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 assolutamente io non so se tu puoi andare avanti su qualcosa ti posso iniziare qualche domanda ma rimanendo in schermo condiviso se ti va bene certo assolutamente una domanda all'inizio proprio mi chiedevano ma questo è il modello da cui tu parti perché è il migliore o ci sono altri modelli che possono funzionare altri layout altri template adesso non so come si chiamano sì 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 allora ottima domanda molto interessante ti rispondo subito ho scelto quello che era assolutamente più semplice per poi lavorarci un pochino più su ok chiaramente con la creatività ma non è assolutamente l'unico l'importante ragazzi è che non è come i primi due che vi ho fatto vedere quando ho proiettato lo schermo quindi troppe stelle troppi grafici troppi troppi colori anche perché ricordatevi che quando voi arrivate a colloquio dopo il primo colloquio magari virtuale con l'ichar l'ichar si deve stampare il vostro curriculum e se è pieno di miliardi di colori oltre a essere pesante con allo sguardo proprio da poter leggere è anche uno spreco di cartuccia banalmente anche se di questo non ne parla quasi nessuno perché attiene alla sfera più operativa quindi qualsiasi modello su Canva va bene purché sia semplice sicuramente ecco il modello a due colonne come vedete è davvero molto molto ordinato molto molto pulito ma anche se non è a due colonne l'importante è che non ha quegli elementi che abbiamo proiettato prima nelle slide ok ok perfetto poi allora qui sono anche tante domande tecniche anche proprio sul cv oggi facciamo anche quelle oggi appunto cerchiamo anche di capire se avete anche domande su Canva visto oggi comunque l'appuntamento per te va su cv e Canva le due unioni quindi fate domande un po' su tutte sicuramente un tema che molti hanno fatto è io ho tantissime esperienze lavorative complimenti in una pagina non mi entra che faccio le metto tutte le metto solo un po' anche questa mi fa molto piacere che l'abbiano chiesto ragazzi il curriculum in una pagina va bene perché ha poca esperienza ma se voi avete voglio dire più esperienza due pagine va più che bene cioè non è che il reclutatore lo cestina è chiaro che se arrivano dieci pagine in Europass la vedo difficile che qualcuno lo legge a meno che non è un ricercatore universitario che ha fatto pubblicazioni ma se vai a due pagine e se accorpi le esperienze o gli anni no? di inizio e di fine va più che bene ok e qui scusami Anna fa questa domanda chiede e autorizzazione dei dati personali? sì assolutamente io non l'ho messo sì per questione di tempo però assolutamente mettetelo qui sotto non so se vedete il mio cursore che si muove sì sì lo vedete ok perfetto qui nell'ultima parte esatto finale l'ho inserita sì assolutamente ok io intanto dico pure mentre leggo un'altra domanda ovviamente se qualcuno vuole fare una domanda a voce visto che siamo su zoom l'idea di zoom è proprio per cercare di creare un po' più di no? di interazione non solo tra me e Floridiana quindi se qualcuno vuole ci dovrebbe essere un modo per alzare la mano quindi se qualcuno alza la mano sì sì dovrebbero sì sì dovrebbero averlo quindi vedo già Matisse intanto io mentre voi alzate la mano io leggo un'altra un'altra domanda che ho trovato a cui che era interessante aspetta aspetta eccolo vabbè non la trovo più la domanda quindi intanto leggo qui allora io direi partirei da da Matilde ti dovrebbe essere un po' che ti chiede di attivare l'audio sì salvi buonasera ciao Matilde ciao Matilde salvi allora grazie innanzitutto per la presentazione io ho fatto una domanda nella chat però appunto dato che mi è stata data la possibilità di parlare allora preferisco esprimermi allora io ho un curriculum molto simile a questo che lei ha presentato diciamo che inizialmente avevo usato un colore per la colonna di sinistra che era diciamo sul violetto però poi mi è stato detto che diciamo c'è una sorta di psicologia dei colori per il CV allora dato anche il webinar di ieri in cui appunto c'era stato detto che il rosso per esempio era sconsigliato io per esempio ho usato un grigio e nella colonna accanto quella di destra ho usato un bianco la mia domanda era quali sono i colori consigliati cioè quelli che diciamo hanno meno impatto comunque rendono il CV insomma un po' più lineare ma anche carino insomma per non renderlo monotono sì 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 chiaro allora sono d'accordo su colori ecco molto forti come può essere il rosso è chiaro magari il rosso lo eviterei a prescindere dal settore professionale ma il violetto ora dipende chiaramente da che sfumatura era ma non la vedo questa grande cosa che può addirittura influenzarmi nel decidere se Matilde può andare avanti o meno con gli step di selezione ok c'è allora dovete pensarla in questa maniera ci sono sicuramente dei colori che vengono strautilizzati e che sono consigliati pensiamo al blu al grigio che hai nominato anche tu al celeste eccetera ma dovete anche pensare che questi sono colori che utilizzano tutti l'idea di mettervi ad esempio in questo caso grigio e giallo come vedete anche il giallo è un colore molto forte ma inserito in questa maniera non dà fastidio è chiaro che se io avessi fatto probabilmente o la parte bianca gialla o la parte grigia gialla già sarebbe stato molto più di impatto no a prima vista per cui secondo me la verità soprattutto la soluzione è sempre un po' nel mezzo cioè di utilizzare anche colori forti come il caso che vi ho riportato qui in un modo furbetto cioè lo utilizzate per mostrare comunque dei tratti della vostra personalità ma senza esagerare ok quindi per tornare alla tua domanda non c'è una palette consigliata eviterei sì sicuramente colori come il rosso e il giallo predominante perfetto perfetto guarda prima di dare la parola a Sasi che lo vedo due domande sono arrivate sui font la prima chiedono quali sono i font sites ideali per la lettura al recruiter sotto il 10 non si dovrebbe scendere giusto? ma sì sotto il 10 eviterei come vedete ad esempio questo qui è 10 sì è più che leggibile io vi consiglio i caratteri più semplici in assoluto come tra questi c'è appunto open sense poi se non è open sense ma è un altro che però bene o male non è arzigogolato o strano o troppo troppo particolare ecco la metterei su questo piano però tutto quello che contiene la parola sans è consigliato magari non so Times New Roman non so se esiste ancora magari quello da un po' vecchio stile ecco infatti Niccolò ha però scritto Times New Roman non so però io quando vedo una cosa mi sembra di tornare 20 anni indietro poi sono 28 quindi però vero sì assolutamente cioè evitiamo chiaramente quei font troppo classici però ad esempio questo nonostante sia un font semplice come vedete non disturba cioè non dà l'idea di vecchio dà l'idea di una persona lineare ma che comunque mette in luce la sua personalità ripeto nei colori ma soprattutto nel contenuto che è la cosa più importante ok ottimo chiedi Cassasi se vuole accedere il microfono ti dovrei aver dato la richiesta buonasera a tutti mi sentite forte e chiaro forte e chiaro buonasera Niccolò buonasera Floridiana e volevo chiedere appunto allora io attualmente sono uno studente universitario e alle spalle ho un background di varie esperienze professionali come receptionist accoglienza turistica e mi chiedevo la domanda è questa molti recruiter hanno detto se attualmente si è studenti universitari di dare più spazio alla parte della formazione canonica istruzione e formazione e poi in secondo piano l'esperienza professionale tuttavia io ho varie esperienze lavorative professionali accumulate appunto in linea con la professione alla quale io cerco e quindi questa cosa un po' mi mette un po' in confusione do precedenze all'esperienza professionale o do risalto alla formazione canonica allora io ti consiglierei vivamente di far risaltare prima l'esperienza lavorativa e poi gli studi per diciamo per un semplice motivo che gli studi cioè comunque il reclutatore arriva a leggerli quindi non è che li cestina se metti prima le esperienze professionali ma visto che hai già delle esperienze professionali e sottolineo se queste esperienze sono in linea con quello per cui ti stai candidando se non la stessa posizione assolutamente mettile in primo piano ok ok perfetto grazie mille grazie a te grazie a te allora intanto arrivano un paio di domande da youtube visto che non ci facciamo mancare niente ok chiedono qui diciamo richiedevano l'autorizzazione al trattamento dei dati che abbiamo già risposto ovvero si l'ha messa l'altra cosa è chiedono la firma questo punto sono curioso di capire se qualcosa che serve la firma sul curriculum no assolutamente ragazzi la firma non serve anche perché pensate che quando voi caricate il curriculum ad esempio su agenzie per il lavoro sui siti sui siti delle società di selezione voi flaggate l'autorizzazione e in quel caso flaggare l'autorizzazione quindi scrivere sì autorizzo equivale anche alla firma quindi no assolutamente non firmate ok e poi qui invece uno spunto era un sans da evitare è il comic sans questa non era una domanda era una affermazione certo certo assolutamente evidenzio proprio con il giallo evidenziatore questo sì certo perché fa parte ecco di quei font che vi dicevo troppo creativi e fuori luogo fuori posto proprio per un curriculum ok ok andiamo andiamo avanti con Cristina mi chiedo di attivare l'audio poi diciamo qualche domanda anche in chat tanto però Cristina vediamo se ok vedo che potrebbe avere la chiamata ciao ciao Cristina volevo fare una domanda perché a me hanno anche detto che i curriculum diciamo come dire sono più ATS friendly se quando lo scarichi nel formato del pdf lo riesci diciamo a selezionare tutto non so se mi sono fatta capire a me è capitato appunto con Canva che io ho sempre fatto il curriculum su Canva appunto avendo queste sezioni non so questi blocchetti che quando me le vado ad esempio a selezionare su pdf me le seleziono in modo male oppure saltando delle parti invece se faccio una colonna intera diciamo una destra a sinistra mi le seleziona meglio va bene così o è meglio continuare a fare le blocchetti non so se mi sono spiegata allora sì sì ti sei spiegata benissimo ho capito quello che intendi sì ho letto anche io spesso di questi suggerimenti ma vi dico che i software si stanno evolvendo molto e stanno si stanno evolvendo anche su questo cioè nella capacità di riuscire a leggere oltre il classico curriculum in formato word per intenderci quindi ad oggi ecco una risposta standardizzata non esiste perché è chiaro che se un software ats è di cinque anni fa avrà magari difficoltà a leggere questo tipo di curriculum ma ad oggi la maggior parte si stanno evolvendo molto anche su questo quindi credo che non sia questo il problema ma quello che io invece vi voglio dare come suggerimento e che in pochi ancora fanno è quando voi caricate un curriculum ad esempio su una banca dati che può essere tanto di un'agenzia quanto di un'azienda ragazzi dovete compilare anche i campi dove vi chiedono di inserire manualmente esperienze professionali esperienze formative eccetera perché quello serve a trovare prima l'informazione su di voi se magari l'ichar di quell'azienda o di quell'agenzia inizia a digitare parole chiave quindi per ovviare a questo problema che ci può essere di natura tecnica e che chiaramente non dipende da noi inserite anche manualmente nel format dell'azienda le informazioni che vi richiedono perfetto perfetto guarda super allora qui una domanda molto ricorrente che è diciamo una cosa che tu hai fatto diverso rispetto a quello che ti raccontava ieri Fabiana quindi visto che è la terza volta che lo scrivono a questo punto va detto allora qui ti dico Michael spero ti hai pronunciato bene mi dice Fabiana sconsiglia di scrivere stagio quindi qua parano come tu hai scritto stagio area comunicazione ma scrivere direttamente la posizione ricoperta non sarebbe meglio ad esempio avendo effettuato uno stagio in comune affiancato direttamente al sindaco come potrei valorizzare questa posizione grazie mille in anticipo ok su questo però ti dico nella realtà delle cose cosa succede che soprattutto a fronte di stagio curriculari non c'è una job title e a volte è difficile darla la job title perché ad esempio se Alice in questo caso si fosse definita non so social media manager secondo me sarebbe stato troppo e soprattutto perché voi dovete ragionare anche in base a quello che cerca ok un reclutatore se io dovessi selezionare un aspirante Alice ok quindi una staggista settore marketing cosa andrei a cercare tra le parole chiave sicuramente inserire lo stage ok quindi dove è possibile se voi chiaramente avete il job title quindi avete siete stati inseriti con uno stage che riporta la qualifica professionale inseritela ma se non l'avete attenzione a quello che inserite ok diciamo vedi appunto come come sempre sono sempre varie varie ma sì infatti su questo vi dico anche la stesura di un curriculum i consigli che si possono dare sul curriculum derivano anche dall'esperienza che si fa quindi anche dal parere soggettivo perché è chiaro che quello che magari per me può essere appetibile a livello di curriculum se mi arriva il curriculum di un candidato potrebbe non attrarre un altro mio collega ok sì sì guarda sono d'accordissimo guarda io quello che mi ricordo perché se non sbaglio avevo anche fatto un video con Fabiana e quello che lei dice per esempio è forse la parola sbagliata è forzare io dico forzare ovviamente non me ne voglia Fabiana un po' di più quindi dire invece che c'era comunicazione tipo assistente all'area comunicazione quindi trovare diciamo non usare la parola stage ma però ecco detto questo ragazzi non penso che questo sia il ma no assolutamente non lo è cioè ecco non vi fatemi passare il termine non vi fissate su questi dettagli perché quello che fa la differenza attenzione sapete qual è ve lo dico subito questa parte che non scrive quasi nessuno e questa è la parte che mi dice qualcosa in più su di voi e questa è la parte più interessante soprattutto se Alice non ha esperienze ok perché io da Alice non posso aspettarmi niente se non conoscenza e impegno una domanda questa te la faccio io non me ne vogliono i ragazzi io diciamo da che sta diciamo ogni tanto mi tocca stare dall'altra parte quindi leggere qualche cv non è un pochino troppo lungo il profilo professionale che tu qui hai scritto o secondo te è giusto anche qui non c'è una risposta giusta o sbagliata però ecco secondo te questa è la lunghezza corretta? ma sì io non andrei oltre questo ma in questo caso ecco secondo me per profili molto junior se chiaramente queste righe contengono informazioni rilevanti io lo inserirei sì assolutamente non andrei chiaramente oltre questo cioè già per esempio se il profilo professionale arrivasse fino alla fine di progetti universitari sarebbe un problema ma non avendo Alice granché da tra virgolette mostrare ok da valorizzare è importante se Alice ha delle idee in mente ad esempio la volontà di voler lavorare in un contesto internazionale è importante saperlo la volontà di avere una forte passione già durante gli studi per il marketing quindi è tutto molto relativo nel senso che se questo pezzo lo si massimizza al massimo va bene se non serve a niente è chiaro che è in più guarda diciamo Kanan io spero che ho pronunciato bene il nome ha detto mi ha dato un input molto interessante proprio su quello che tu dici dice io sono stata selezionata in un'area internazionale di Unicrate con un CV messo davvero male mi hanno confessato che fossero stati attratti dal profilo professionale quindi esattamente quello che tu dici ecco quindi ecco magari ma è quello è quello ragazzi sì assolutamente è quello che mi fa dire continuo a leggere se io leggo questo dove Alice si racconta mi dice qualcosa qualsiasi cosa ecco sapete cosa cattura l'attenzione ecco perché ve l'ho scritto perché sono davvero pochi i ragazzi che si espongono e che dicono a me piacerebbe lavorare in questo tipo di azienda fatelo se voi avete un sogno tipo lavorare in multinazionale ma perché non lo dite guarda assolutamente assolutamente mi trovo magari faremo un webinar solo su quella parte sul profilo professionale guarda adesso c'è una bella idea allora intanto vedo vedo Chiara che c'è pure la webcam attivata quindi mi piace che c'è pure la webcam attivata quindi l'attiviamo subito Chiara ci senti? sì voi mi sentite? sì sì assolutamente ok allora buonasera a tutti e a tutte io ho una domanda più che altro sul contenuto nel senso che nell'istruzione e formazione io avevo iniziato l'università nel parliamo del 2015 non l'ho ancora attualmente finita però è in programma ecco qui la mia difficoltà è scrivere proprio la data perché magari la mia paura è quella di essere vista in maniera negativa sotto quella voce lì perché ho impiegato più tempo del previsto però forse ha risposto prima con il fatto che ci si concentra prima sul profilo professionale guarda qui cosa farei io in corso stop ok e al colloquio però non saprei come giustificare questa cosa più che altro se mi venisse chiesto al colloquio vabbè certo se ti viene chiesta devi dire assolutamente la verità però intanto eviti che sul curriculum questo possa essere un pregiudizio poi sei tu che te la devi giocare bene cioè nel senso che anche qui non è che questo è l'unico elemento per cui un collega almeno spero ti possa decidere che tu non vai bene per quel ruolo certo se io parlo con Chiara che non mi mostra motivazione non mi mostra interesse e mi dice pure che ci ha messo un po' di più a laurearsi allora tutti questi elementi mi portano a dire Chiara non va bene per questo ruolo ma se Chiara mi mostra comunque durante il colloquio che ha motivazione che ha passione che ha determinazione chiudo l'occhio perché magari Chiara avrà avuto problemi suoi cioè che voglio dire nella vita possono capitare e non è che questo deve essere un motivo per essere bastonati cioè capita a tutti ok grazie mille in bocca al lupo figurati in bocca al lupo stanno stanno arrivando un sacco di domande qui in chat molto interessanti la prima veloce il tirocino universitario diciamo uno stage curriculare in quale sezione va inserito più sulla parte di istruzione formazione o più su esperienze lavorative esperienze lavorative siete andati in azienda avete lavorato che sia ora curriculare extracurriculare e lavoro quello inseritelo in esperienza lavorativa perfetto una laurea sto cercando di stringere il più possibile bravo esatto diciamo leggiamo le ultimissime domande e poi cerchiamo che queste non possiamo andare avanti fino a dopo domani una laurea non terminata la inseriamo una laurea non terminata io la eviterei se hai delle esperienze professionali maturate o comunque in corso darei priorità a quello ma eviterei e invece il liceo visto che questo è arrivata già due tre volte questa domanda inserire il liceo ha senso o no? beh il liceo ha senso nel momento in cui magari non si ha ancora la laurea non si è ancora magari conseguito il titolo di laurea e possiamo inserire la scuola però già per esempio quando inseriamo laurea triennale laurea magistrale eviterei il liceo ok allora diamo la parola a Dianora io spero di leggere bene i vostri nomi mi dovete scusare se magari non li azzecco tutti no l'hai detto benissimo grazie io volevo fare una domanda molto specifica perché parlando con un mio amico lui mi suggeriva di inserire all'interno delle esperienze lavorative anche gli obiettivi raggiunti in termini magari di performance si tratta non so per esempio di digital marketing aumento del fatturato o comunque numeri o percentuali di variazione per dare diciamo un supporto a quello che è stato il mio apporto in azienda io sono più per magari un pochino più semplice qualitativo più che quantitativo però volevo avere un parere di chi guarda il curriculum tutti i giorni bella domanda molto interessante grazie per avermela fatta perché apre una parentesi molto molto utile chiaramente su Alice è difficile perché stiamo parlando di un profilo molto junior ma già per esempio quando maturi due tre quattro anni di esperienza se hai risultati ragazzi inseriteli cioè io quasi mi emoziono quando vedo che all'interno di un profilo professionale oppure delle esperienze professionali vengono riportati numeri cioè se siete consapevoli dei risultati che avete raggiunto eh un numero di clienti che avete gestito eh se avete contribuito ad aumentare il fatturato aziendale o il fatturato del vostro dipartimento scrivetelo perché sono elementi che balzano subito all'occhio perché in pochi ancora lo fanno quindi sì assolutamente grazie grazie mille ti ok andiamo avanti adesso chiedo adesso questo è un nome ancora più difficile tanto già saprà chi è perché ciao non ti preoccupare io mi faccio chiamare Lizzi quindi ciao tutto bene tutto ok perfetto anche se sono molto interessata e avevo una domanda un po' particolare la domanda è siccome io sto facendo domande sto realizzando CV sia per cercare lavoro in Italia sia in Gran Bretagna la mia domanda è il CV che si fa per cercare lavoro all'estero specificatamente in Gran Bretagna è diverso strutturalmente non solo la lingua c'è qualche differenza è completamente diverso ma attenzione questa domanda cade a pennello Niccolò perché non so se ricordi meno di un anno fa se non erro sì forse meno di un anno fa abbiamo fatto un webinar proprio su questo sul resume sul curriculum in lingua inglese che ti invito a riguardare perché in quel caso proprio con Tutored abbiamo proprio dedicato un intera e anche lì è stato molto interessante per i ragazzi perché davo anche dei consigli ecco molto pratici su come scrivere il testo ok però per rispondere alla tua domanda chiaramente in modo superficiale poi avrai modo di vederlo in quel webinar che ti invito a guardare sì è molto diverso molto diverso soprattutto lato grafico non esiste foto non esiste doppia colonna esiste un formato oserei dire un po' triste e quindi sì è completamente diverso sotto tutti i punti di vista grazie mille ho messo il link in chat così almeno potete andare a dare un'occhiata ragazzi qui continuiamo con un sacco di domande siamo in chiusura quindi giusto le ultime due o tre perché poi povera Floridiana se no io sto cercando di rispondere a domande quelle un pochino più generiche perché le troppo specifiche sono un po' un po' complicate o meglio possono essere queste questa sta arrivando un po' di volte quindi chiedono cosa posso scrivere nella posizione se sono alla ricerca di uno stage curriculare laureanda in staggista sì va bene entrambi certo se poi chiaramente tu ti candidi per una posizione che esiste nel senso che non fai candidatura spontanea ma vuoi rispondere ad un annuncio riporta il job title dell'annuncio perché ricordatevi che qui dove io ho scritto staggistare marketing potete inserire o la posizione attuale o quella desiderata quindi potete assolutamente inserire qui se invece fai candidatura spontanea va bene come hai detto tu sì assolutamente ok io te lo dico chiederei all'ultimo di accendere il microfono Giovanni c'è una a casa io ragazzi ho fatto un po' a casa quindi non non vi arragiate ecco mi sono qui ecco di Giovanni salve intanto grazie innanzitutto faccio i giusti ringraziamenti per questo video molto ben fatto complimenti no la mia domanda buccata riguardava proprio Canva siccome io sono sincero questa è la prima volta che lo vedo non l'ho mai utilizzato in questo metodo per creare un curriculum ecco ma mi chiedevo ma per esempio prendendo questo curriculum qui come quello questo qui di Alice Milani ma in seguito è possibile tipo salvarlo e tornarci per poi modificarlo oppure proprio se per esempio vuoi cambiare il curriculum devi fare tutto da capo assolutamente no allora considera che su Canva funziona in questa maniera che qualsiasi azione tu faccia quindi ad esempio scrivere qui spostare il testo o qualsiasi altra cosa si salva in automatico quindi se tu adesso chiudi il foglio e lo vuoi riaprire ti basterà andare nella home page di Canva e ti ritrovi il progetto lì se invece lo vuoi scaricare in pdf premi sulla freccettina che vedi qui selezioni la tipologia in questo caso pdf standard e lo scarichi attenzione è una cosa che non vi ho detto che mi sono dimenticata guardate qui non scaricate vi prego perché lo fate davvero in tantissimi il curriculum con la dicitura di default di Canva ma scrivete cv Alice Milani ad esempio ok e premete invio perché se no Canva quando aprirà il foglio si leggerà quella dicitura strana che avete visto all'inizio ok va bene perfetto grazie mille figurati comunque scusami Floridiana qui faccio davvero non voglio non voglio andare troppo avanti io però la mia parola è sul formato perché per esempio su Tutor noi abbiamo imposto parlando con vari recruiter che uno il cv lo deve dare in pdf quindi non c'è word che tenga non c'è png che tenga però adesso appena tu hai premuto download io subito mi sono impanicato perché ho detto di default lui ti consiglia di fare in png che ti consiglia ma non so perché sia consigliato onestamente ma io penso che sia consigliato per un'altra questione perché come leggi qui c'è scritto immagine in alta qualità però a noi non ci deve interessare perché è chiaro che se noi lo dobbiamo trasformare in un documento a tutti gli effetti sceglieremo pdf standard o stampa stampa pdf ok entrambi chiaramente vanno bene ma credo che venga consigliato perché canva di base nasce come programma di grafica quindi dove si dà priorità all'immagine per cui di default qualsiasi cosa tu fai perché io ho provato più modelli no tipo dalla presentazione al curriculum al post di instagram ti consiglia a prescindere png sì sì esatto però sono d'accordo ecco ragazzi usate il pdf ve lo dico perché pure perché ecco pure il fatto degli ats comunque leggono il pdf è readable mentre invece il png è un'immagine statica esatto non si può leggere ragazzi allora io direi che ci siamo che ci siamo allora due cose prima di darvi le ultime informazioni io vi chiedo un favore vi chiederai Silda di accendere tutti la telecamera e come abbiamo fatto ieri vorrei fare una foto uno screenshot a tutti quelli che ci sono rimasti vedo che sono ancora più di 200 persone nonostante è più di un'ora e mezza che Floridiana parli anzi innanzitutto Floridiana grazie mille perché che dire sei stata sei stata super io qui vedo che sorridete tutti ci siamo sorridete vedo tutti belli sorridenti bravi alla grandissima alla grandissima grazie mille ragazzi allora un paio di informazioni prima di salutarvi ricevete tutti sia sul gruppo telegram che trovate che comunque lo trovate sempre tramite il link che vi ho invito prima oppure andando su telegram scrivendo destinazione cv lo trovate sicuramente ma anche tramite mail tutti riceverete questo cv che ha fatto che ha fatto Floridiana troverete anche le slide adesso ci può fare di poco Floridiana così che dopo che si rivolerà un pochino visto che ha parlato un sacco ci manderà ma non ti preoccupare mi piace parlare non so se qualcuno se n'è accorto quindi per me non è un problema quindi riceverete tutto la registrazione quindi state tranquilli vi ricordo che domani abbiamo tre appuntamenti uno più sul personal branding uno più specifico su economia e uno più stem quindi abbiamo tre appuntamenti tutti a partire dai 18 tranquilli se uno li vuole vedere tutti ci sarà sempre la registrazione Floridiana ancora grazie mille davvero tantissimo della tua disponibilità della tua professionalità anche perché sei stata super chiara e un sacco di consigli vedo che tantissimi ragazzi ti stanno ringraziando e niente ragazzi e con voi ci vediamo ci vediamo domani ciao a tutti grazie a tutti e in bocca al lupo per la vostra carriera ciao grazie ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti